Una per gli uomini? Per gli uomini! Beh, facciamo per gli uomini e anche per le donne. Sì, 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 sì. Questa è una canzone particolare, questa è l'ultima canzone che ho fatto, eh. Mo' sentiamo come l'accettate, speriamo che vi piaccia. Cos'è? Si chiama... Stasera pago io. Stasera pago io. Sì. Bene. 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 Facciamo l'argo perché mi devo muovere. Certo, certo. Un po' più largo, eh. Tu così lontani. Fammi sentire una nota un pochino più... Non mi piace. Un pochino più acuta. Così mi piace. Ma è basta. Amici, amici, non andate via. Amici, 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 quello è il suo balacone. Amici, amici, quello è il suo balacone. Adesso le farò una serenata. Guardate la finestra, è ancora illuminata Con lei che mi lasciò non potremmi Che vuoi vecchia portiera e lasciami cantare Dormi e non mi scocciare Ma cosa stai dicendo? Non fare la cretina, è morta stamattina È morta stamattina Amici, amici, andate bene via Vi prego voglio rimanere solo Stasera pago io Stasera pago io Stasera pago io Col mio dolore La 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 Grazie a tutti.